Ciao da Avsim! Partiamo o proviamo a partire con una nuova rubrica su questo canale, Avsim Guarda, che gioca sul fatto che non vi dico guarda Avsim, guardate Avsim, ma diciamo anche Avsim guarda, anche io guardo oltre ad essere guardato e guardo i video degli altri, nello specifico Gianni Balsarini. Non si tratta di dissing, il dissing è un'altra cosa, qui si tratta di andare a leggere, a confrontarsi sui contenuti, quindi a leggere quello che si è detto, ad ascoltare quello che si è detto e a fare delle precisazioni fattuali se è il caso di farle e a fare dei commenti se è il caso di farli. Ma non per dire io ho ragione e tu hai torto, bensì per provare a mettere un pochino in difficoltà chi fino a questo momento ha avuto la libertà di dire tutto il contrario di tutto in maniera contraddittoria, incoerente ma in maniera anche impunita, quindi senza che gli venisse fatto notare di essere stato contraddittorio ed incoerente. E si tratta quindi di cercare di ristabilire un minimo di verità, un minimo di realtà, ma semplicemente confrontandosi con i fatti, con le evidenze, con le immagini in alcuni casi, con le dichiarazioni, con i ragionamenti, vedere che cosa ha senso e che cosa non ha senso. Perché, in realtà, cerco di fare una piccola breve precisazione, è molto tempo, sono anni, che io subisco le conseguenze negative di una narrazione che viene portata avanti da altri. In che senso? Nel senso che io sono sostanzialmente da solo, non mi coordino con nessuno, non collaboro con nessuno e semplicemente prendo il dato fattuale. Quello che vedo, quello che ascolto, quello che comprendo e ne parlo ed esprimo delle opinioni, prendendo anche delle posizioni che possono essere radicali, che possono non essere condivisibili, che possono non essere neanche comprensibili. Però che cosa succede? Che all'esterno da me ci sono quelli che parlano comunque della Juventus, che a volte si coordinano, a volte collaborano, a volte seguono una linea, tra virgolette, editoriale. E quindi sono in tanti a dire, per esempio, A, poi arrivo io, dico B e l'esercito, diciamo, il popolo, gli utenti, attaccano me perché non capiscono perché io stia dicendo B quando tutti hanno detto A. Si tratta di essere depensanti, ma a volte anche in maniera involontaria. Senti che tutti ti dicono una cosa, ti convinci che quella è vera, senti che qualcuno dice il contrario e te la prendi con chi dice il contrario perché ti costringe a pensare, ad abbandonare il tuo punto di vista. Ecco, questa rubrica vuole fornire eventualmente questo strumento, lo strumento di andare oltre una certa etichetta, una certa narrazione e cercare di capire se è vero o non è vero quello che viene detto, se è condivisibile o non è condivisibile. Senza lasciare che uno dica A, così rimane A e poi quando qualcuno si sbatte per dimostrare che è B, ne esce anche sconfitto e viene magari anche attaccato per il semplice fatto che si è discostato da una narrazione che nel frattempo si è consolidata. Non la facciamo proprio consolidare questa narrazione, quindi è un fatto culturale di andarsi a confrontare su queste tematiche. E allora prendiamo come primo video gli ultimi due, gli ultimi due video pubblicati da Gianni Balsarini, in realtà l'idea di questo video, di questa rubrica nasce dal primo di questi due video, poi ne ha fatto un altro e ci metto anche quello. Stiamo parlando del video che ha fatto scalpore, titolo Approfondimento, perché poi Gianni Balsarini non fa mica clickbait, ma per niente, con in copertina Allegri e la scritta Aveva ragione Lui. Anche nati per vincere si è inalberato, ha fatto uno sfogo su questo video, perché non puoi non fare uno sfogo quando vedi un video aveva ragione lui, ma Balsarini non è l'unico ad aver detto che Allegri aveva ragione, semplicemente perché prima della partita Allegri aveva detto non bisogna avere l'euforia, ecco, come se Allegri non fosse l'allenatore e non avesse la responsabilità momento per momento di intervenire per cambiare le cose, ma stesse lì con le braccia incrociate a guardare come un bordocampista che le cose accadono senza che lui possa intervenire. E poi c'è l'altro video che ha in copertina Bisogna Capire e il titolo è Colpa di Tutti, quindi anche qui, diciamo, zero clickbait assolutamente, che è una risposta ai commenti, una risposta un po' sdegnata ai commenti ricevuti al primo video, alle reazioni ricevute al primo video. Io penso, non sapevo neanche ancora che avrei risposto pure io, se no magari adesso ne fa anche un terzo, ma va bene, ma un saluto tra l'altro a Gianni Balsarini, faccia i video che vuole, dica quello che vuole, ma sappia lui ed altri che non staremo zitti, che non staremo zitti a lasciare che si dicano cose che vanno sostanzialmente a creare una consapevolezza che può essere nociva, che può essere nociva, perché se, e andiamo nello specifico, tu dici che chiesa va ad abbracciare allegri, allora non ci siamo, non ci siamo perché non è assolutamente così, non è assolutamente così, e non si tratta di non poter parlare, di non poterlo dire, si tratta di poter dire quello che si vuole, sapendo però consapevolmente che per determinate cose per cui si esagera si può ricevere una controrisposta, si può ricevere un dibattito, ecco ci può essere un dibattito, si tratta di fare dibattito, poi il pubblico deciderà se qualcuno ha ragione e un altro ha torto o viceversa e si schiererà e si collocherà, ma dopo che magari ci si è confrontati appunto sui contenuti, senza dare per buona una versione solo perché è quella di Balsarini. Che cosa dice Balsarini nel primo video? Ho messo qui davanti la trascrizione per non dimenticare quello che comunque ho ascoltato e ho già immagazzinato. Ecco, parte Balsarini dicendo lo sapete che dopo 112 partite consecutive in cui Allegri ha sempre cambiato la formazione iniziale rispetto a quella precedente contro il Sassuolo per la prima volta ha scelto la stessa formazione della partita di prima e qui già fa una giustificazione ad Allegri, ma mi dispiace per Balsarini, non può nascondersi e dire che non lo sta difendendo e non fa il difensore d'ufficio perché si tratta di un... cioè tu cominci un video in cui dici questo lo stai già difendendo perché cosa dice? Dice proprio l'unica volta in cui conferma la formazione capita una serata storta di quelle, dice, la più clamorosa degli ultimi 10 o 15 anni tolto Monza e poi dice una cosa su Monza. Ma che vuol dire? Della serie, ecco, ha fatto quello che... lo dice proprio, ha fatto quello che gli era stato chiesto quello che alcuni gli chiedevano, ovvero di puntare... che molti auspicavano ovvero di puntare sullo stesso gruppo ed è andata male. Quindi invece di essere colpa di Allegri è colpa di chi chiedeva ad Allegri di utilizzare la stessa formazione. Ma chi è che ha chiesto ad Allegri di utilizzare la stessa formazione? Si faceva semplicemente notare che un allenatore che parla di gruppo con i giornalisti che poi parlano di gruppo, di squadra, che parlano di unità, che parlano di lavoro buono che si è fatto, dovrebbe avere una formazione di base. Il fatto che cambi continuamente la formazione vuol dire che non ci sta capendo nulla. Dopodiché chi ha detto che Allegri doveva mettere contro il Sassuolo la stessa formazione impiegata contro l'Avazio. Ma chi l'ha detto? Nessuno! Perché è chiaro che dipende dall'avversario, dalle condizioni dei giocatori e dal tipo di calcio che vuoi fare. Invece no. Cosa dice Balsarini? Ha messo la stessa formazione e ha perso. Avete visto? Ecco. E quindi non è colpa di Allegri. Si parte subito a dire che non è colpa di Allegri. Poi si cita Monza. Cita Monza, la sconfitta di Monza, che dice che non è... che forse è stata più clamorosa quella, però lì c'era un contesto diverso perché c'era uno... non c'era uno spogliatoio unito. Ora io avrò difetti di memoria, ma non mi pare che all'epoca si disse apertamente che non c'era lo spogliatoio unito. Perché era una cosa gravissima. Perché se non hai lo spogliatoio unito e perdi per quel motivo, l'allenatore lo devi cacciare dopo un minuto. Ma non mi pare che lì Balsarini disse, sì avete ragione, è meglio cacciare Allegri perché lo spogliatoio non è unito. Ma sul fatto di Allegri Out interviene sul secondo video. Quindi veramente assurdo, veramente stucchevole tornare dopo tutto questo tempo a dire non era unito. Quando invece si poteva e si doveva intervenire per evitare che le cose peggiorassero e sono peggiorate e sono peggiorate, si stava zitti. Perché? Perché all'epoca si stava zitti? Queste sono o non sono anche responsabilità su come sono andati gli eventi che se avessero dato ascolto a me e a tanti, non tantissimi, a tanti che la pensavano come me, oggi Allegri non sarebbe più l'allenatore della Juventus, sarebbe ancora la Juventus, non sarebbe l'Allegrentus e forse si sarebbe vinto qualcosa, ma soprattutto ci sarebbe una squadra che gioca a calcio. Sono o non sono responsabilità anche di Balsarini? Queste? Chiedo, chiedo. Poi ognuno si fa le sue idee. Adesso è tutto diverso e poi appunto dice Chiesa perché le voci erano, le voci che peraltro erano fondatissime di sidi, di litigi tra Chiesa e Allegri sono state superate nel tempo e la conferma si è avuta ieri quando Chiesa, dopo aver segnato, è corso da Allegri ad abbracciarlo e scuoterlo e vuol dire che tutto sia appianato e che Chiesa si sta convincendo di questo suo nuovo ruolo che l'ha portato a segnare il quarto gol in cinque partite eccetera. Ma allora innanzitutto non c'è nessun nuovo ruolo, ne ho parlato, l'ho dimostrato sulle prime tre partite, non c'è un nuovo ruolo, Chiesa sta giocando in una posizione ibrida che è comunque prevalentemente di esterno, addirittura quasi mezzala. Quindi che si debba dire nuovo ruolo solo perché qualcuno ha inventato un nuovo ruolo e la narrazione segue questo dato fattuale che non è confermato e allora si sta distorcendo la realtà. Ma poi Chiesa è andato ad abbracciare Allegri? Chiesa è andato ad abbracciare Allegri? No ma dico Chiesa è andato ad abbracciare Allegri? Qui non si tratta, vedete, non si tratta di avere un'opinione, non si tratta di fare i video che uno vuole di dire quello che gli pare, si tratta di distorcere la realtà. Chiesa va ad abbracciare Vlaovic, corre dopo aver risultato sotto la tribuna ospiti, corre ad abbracciare Vlaovic che era stato appena sostituito e dopo aver abbracciato Vlaovic e qualche altro giocatore, va a strattonare Allegri! Ehi fermo immagine, l'abbiamo visti tutti, Chiesa era nervosissimo nello strattonare Allegri, Allegri era sorpreso di questo strattone. Ora sarà stato uno strattone energico della serie e vai mister ho segnato, può darsi, ma che lo vada ad abbracciare? Ma quando mai? L'è andato a strattonare? Tant'è che ci stiamo anche divertendo, è diventato un meme. Chiesa uno di noi, tutti come Chiesa, perché tutti vorremmo strattonare Allegri nervosamente per dire dai, forza, vattene da qualche altra parte, per esempio, per esempio. Quindi che cosa si è ripienato? Come si fa ad affermare una cosa del genere? Si tratta semplicemente di distorcere la realtà. Mi dispiace, non è andato ad abbracciare Allegri, ma l'abbiamo visto tutti, non siamo scemi. L'abbiamo visto tutti che non è andato ad abbracciarlo. L'è andato a strattonare. La mia opinione? Chiesa non vede l'ora, non vedeva l'ora di strattonare Allegri, anche pubblicamente, e ha accolto l'occasione di un'esultanza grintosa per un suo gol, per camuffare questo strattone in una sorta di esultanza. È stato molto intelligente e molto furbo, ma fondamentalmente l'è andato a strattonare, non ad abbracciare. Poi appunto il gol, come abbiamo detto, non è un nuovo ruolo. Poi parla di Danilo, dice che Danilo si è preso la responsabilità del gol di Pinamonti. Ecco, intanto diciamo quanto Danilo sia disastroso, ma no, si deve dire che Danilo è un bravo ragazzo, ma sul fatto che Danilo dice siamo più scarsi di quanto si crede, Balsarini non dice nulla. Parole gravissime, soprattutto perché pronunciate da un capitano, non si dice nulla, su questo non dice nulla. Comunque è successo tutto quello che non doveva succedere, una serata come questa all'interno della stessa annata è irripetibile, e questo non per cercare delle scuse o delle giustificazioni, perché equiviene alla critica ad Allegri, e fa effettivamente una critica ad Allegri, glielo riconosciamo, ma non basta questa critica, questo è il punto dopo che tu già lo hai difeso, perché dice, Allegri l'aveva detto anche in conferenza stampa, c'è troppa euforia, secondo me si riferiva ai giornalisti, secondo me si riferiva ai giornalisti, ma diciamo che si riferissi ai giocatori, e dice giustamente Balsarini, se tu hai percepito che c'era troppa euforia nei giocatori, e lo sapevi, visto che la conferenza stampa l'hai fatta venerdì, lo sapevi già giovedì, giovedì, venerdì e poi sabato, che cos'è che non sei riuscito a fare per incidere mentalmente sui giocatori, quindi dice Balsarini questa è una denuncia nei confronti dei giocatori che erano troppo euforici, ma anche un autogol o un autodenuncia perché appunto Allegri non è riuscito a far cambiare rotta mentale ai giocatori, come se poi bastasse cambiare rotta mentale, ci sono ben altri problemi di contenuto, di tattica, di che cosa si deve fare in campo, però accettiamo il fatto che perlomeno una minima critica logica, anche logica, Balsarini ad Allegri la fa, però bisognerebbe andare un pochino più a fondo, e dire semplicemente che se c'è troppa euforia nello spogliatoio Allegri non riesce ad incidere, torniamo al discorso di Monza, forse lo spogliatoio neanche lo segue, perché sennò dobbiamo dire che sono tutti degli imbecilli questi giocatori, e tra essere imbecilli 25 persone e uno solo, qual è la cosa più probabile secondo voi? qual è la cosa più probabile? Invece no, si dice che Allegri non è riuscito, ma non riuscendo Allegri, che implicitamente si dà comunque la colpa ai giocatori, che non hanno recepito magari chissà quale sforzo avrà fatto Massimiliano Allegri, ma le squadre sono fatte di uomini e non di robot, va bene, sono anche giovani, come nel caso della Juve, quindi è una fase di costruzione quest'anno, e comunque Allegri ha detto che non siamo ancora capaci di accendersi o di spegnerci durante la partita, perché uno dovrebbe spegnersi durante la partita, perché? Perché? Poi infatti dice anche un'altra cosa, prendi gol per colpa di Scesni, e quindi colpa di, su questo credo che non ci piova, perché la squadra forse, ecco, la squadra che non fa tirare, comunque dice la squadra lo fa tirare, però allora, quello è un errore proprio di, dice le squadre che non fanno mai tirare in porta l'avversario non esistono, la squadra che non fa mai tirare in porta l'avversario non esiste, ecco, ma quando mai? E quindi siccome non esiste, secondo Balzarini, la squadra che non fa mai tirare in porta l'avversario, allora vuol dire che dobbiamo accettare, dobbiamo dire prego, perché c'è anche la squadra avversaria, quindi la Juventus dovrebbe dire prego avversari, siccome siete avversari vi facciamo tirare, se no sembra brutto che non tirate. Faccio l'esempio, contro l'Empoli l'Allegrentus ha preso zero tiri nello specchio, quindi esiste la squadra che non fa tirare in porta l'avversario, non esiste la squadra che non prende mai nessun tiro in porta, ma nella singola partita e anche in più partite, anche non consecutive, ci sono squadre che non fanno tirare in porta. L'Allegrentus le scorse stagioni diverse volte ha fatto zero tiri in porta per un intero tempo o per un'intera partita. Balzarini se ne dimentica queste cose? Ma perché bisogna indurre queste argomentazioni facili per la gente, no? Così la gente dice, ma l'ha detto Balzarini, effettivamente nessuna squadra, quindi dobbiamo accettare di prendere dei tiri in porta, no! Poi se la prende con Cesni dicendo che quello è un errore tecnico di base di Cesni, quindi stiamo dicendo che Cesni non è un professionista? Fa un errore tecnico di base? Sì, gli sarà capitato, è un errore grave, è un errore ingiustificabile, ma stiamo allora dicendo che Cesni all'improvviso è diventato scarso e le paratissime che ha fatto anche su Laurentier e le paratissime che ha fatto durante la partita non contano, non le prendiamo in considerazione, quindi togliamo le paratissime, facciamo che gli Cesni non riesce a fare una parata difficile, riesce a fare la parata facile, il risultato è uguale, prendi comunque gol e l'infortunio tra virgolette di Gatti, l'autogol sfortunato di Gatti è totalmente irrilevante perché avresti comunque perso 3 a 2, la partita era completamente finita, quindi si va avanti di questo tipo di argomentazioni, poi arriva l'autogol di Vigna ma avrebbe segnato McKennie, come fai a sapere che avrebbe segnato McKennie? Per quanto mi riguarda McKennie difficilmente sarebbe arrivato su quel pallone, era lì dietro ma era molto più scivolato, quindi non è assolutamente detto, quindi dire ha fatto autogol, ma tanto avrebbe segnato McKennie per giustificare, ma in tutto questo, dove Balzarini, quando è che dice che la squadra ha fatto due tiri nello specchio, due, a proposito della squadra che non fa tirare in porta che non esiste, due tiri nello specchio, tutte e due da parte di Chiesa, due tiri di cui uno è stato il gol, due tiri in un'intera partita e il primo tiro in porta è stato proprio il gol, di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Di questo non si parla infatti, di questo non si dice, non si dice niente e dice però ha ragioni allegri, ha ragioni allegri, ha ragioni allegri perché lì non ti devi far schiacciare, dopo che hai pareggiato devi continuare ad attaccare e devi fare un altro gol, peccato che poi l'atteggiamento, chi lo stabilisce l'atteggiamento della squadra? Chi dà alla squadra gli strumenti per continuare ad attaccare, per stare alta o per stare bassa? Chi gli ridà gli strumenti? Se li prendono da soli? Se se li prendono da soli allora smettiamo di parlare degli allenatori, ma di tutti gli allenatori, smettiamo di parlare di tutti gli allenatori, evidentemente non è così, perché visto che quando si vince le cose vanno bene, poi c'è il secondo video in cui andiamo proprio nell'iperuraneo del risultatismo con una grandissima ipocrisia, visto che quando si vince è merito dell'allenatore allora quando poi l'atteggiamento non è quello giusto, evidentemente ci sarà una responsabilità dell'allenatore, infatti dice Bazzarini quando abbiamo fatto il 2-2, ho detto adesso la si va a vincere, anche perché dice non dobbiamo, e non ho pensato che Allegri dicesse difendiamo adesso difendiamo il 2-2, perché non l'ha detto e non l'ha neanche lontanamente pensato, come fai a sapere che non l'ha pensato? Quando poi si vede che, poi parliamo di un allenatore che ha detto più volte se non riesci a vincere devi almeno evitare di perdere, come facciamo ad escludere completamente che Allegri avesse in testa di difendere il 2-2? Certo che aveva in testa di difendere il 2-2, almeno per qualche minuto, perché lui è così, adesso abbiamo pareggiato, difendiamo il 2-2, non è quella fase della partita in cui bisogna attaccare, ma questa narrazione sulle fasi della partita è Bazzarini anche che la porta avanti, non è, non solo lui, ma c'è anche lui che porta avanti questa narrazione, per cui ci sono i momenti in cui vedi, devi accenderti e devi anche spegnerti, no, non ti dovresti spegnere mai, o dovresti essere nelle condizioni di veramente mangiare a morsi la partita, andare 2-3-0 e poi gestisci, amministri se vuoi gestire e amministrare, o magari fai come il Bayern Monaco che vince 7-0 contro il Bocum, per esempio, senza fermarsi e non è mica l'unico caso. Poi ancora, sempre per quanto riguarda questo primo video, comunque è ovvio che Allegri volesse vincere, dice io tra l'altro non mi sarei accontentato del 2-2, non mi sarei accontentato del 2-2 perché non sarebbe stato comunque un risultato sufficiente, ci sono stati altri episodi, c'era comunque il sentore di una situazione che si stava riproponendo come dopo il primo gol segnato e qui c'è stato un cedimento strutturale e la Juve deve lavorare perché anche con poco tempo a disposizione e adesso dice la classica allegrata, cioè il fatto di, è bene da un lato giocare subito, ma può essere un male perché con quale testa vai a giocare contro il Lecce? Il Lecce è imbattuto, quindi viene all'Allianz Stadium senza, con la tranquillità psicologica, senza l'obbligo praticamente del risultato e invece la Juve è stata colpita psicologicamente da questa sconfitta e che diciamo pure inaspettata, anche se Allegri non dico che avesse messo le mani avanti, no, non aveva mica messo le mani avanti, ma qualcosa effettivamente aveva denunciato, poi ci saranno dei cambi eccetera eccetera e dice poi appunto non per fare il difensore d'ufficio, l'ha detto non so in qualche parte di questo video, non per fare il difensore d'ufficio, ma comunque Allegri non è che avesse messo le mani avanti, ma diciamo una sconfitta inaspettata e quindi anche qui in che senso dice l'allegrata? Perché Allegri che ha detto rispetto alla settimana di lavoro senza le partite in mezzo? Ha detto se sarà un vantaggio lo vedremo, se raggiungeremo il risultato sarà stato un vantaggio, se non raggiungeremo il risultato sarà stato uno svantaggio, quindi si è fatto l'alibi preventivo rispetto a questo Balzarini, che domande ha fatto da Allegri? Quando è che l'ha messo in difficoltà? Quando è che gli ha detto cosa stai dicendo mister? Questa cosa non ha senso, è illogica, ma incredibilmente nel secondo video Balzarini, io vi metto i link in descrizione così ve li andate a guardare, incredibilmente nel secondo video Balzarini riesce a criticare la sua categoria, cioè se stesso critica la categoria dei giornalisti per quello che lui stesso fa, è fantastico, dice avevo fatto un video in cui parlavo di questa scrizzofrina dei giudizi che riguarda gli addetti ai lavori e gli appassionati, quindi anche noi giornalisti basta una partita fatta bene per esaltare e una partita fatta male e bisogna distruggere. Il risultatismo contro cui io combatto da sempre, ma vogliamo dire che Balzarini non è il risultatista? Adesso lo vediamo perché in questo video contro il risultatismo fa il risultatista e ci sono proprio dei chiari segni e quindi oggi finalmente, probabilmente fino a domani o fino a dopo domani, cioè quindi martedì con il Lecce, abbiamo avuto un altro esempio di questa schizofrenia, ho letto commenti di gente che dice che adesso è salto, dice cioè Balzarini giù dal carro di Allegri, mi ha stufato quando Allegri ha vinto contro la Lazio, leggevo commenti del tipo ho sempre criticato Allegri ma devo ammettere che quest'anno sta facendo bene, sta portando la squadra avanti, avanti con il risultato e quindi il risultato va sempre a condizionare il giudizio nel caso della Juve e anche diciamo in altri momenti, quindi si lamenta del fatto che i giudizi dipendono dal risultato, certo, certo e si è svegliato adesso, se ne è reso conto adesso, è sempre così, Balzarini non ha mai detto sì ma si è ottenuto il risultato, lo dice in questo video, lo dice in questo video poco dopo quando dice certo tre anni senza vincere peserebbero parecchio rispetto al discorso esomero, tre anni senza vincere, non tre anni giocando uno schifo, non tre anni giocando uno schifo, lui è il primo che parla di risultati, è il primo, o è uno di quelli o uno dei primi che parlano di risultati e che esprimono giudizi relativamente al risultato, ecco poi, eh ma si vede la mano di Magnanelli, se le cose vanno male erano incapaci però ormai di questo non mi stupisco, davanti per la mia strada, che non è la mia strada quella di difendere a spada tratta Allegri e dice il rivendi che appunto io l'ho criticato nel video che ho appena finito di commentare perché insomma ha fatto questa autocritica diciamo non so quanto volontaria, forse involontaria ma comunque se tu sai giovedì che la squadra era distratta o comunque non coinvolta e c'era questo clima di euforia devi intervenire, devi fare qualche cosa e se non sei riuscito a ribaltare questa situazione evidentemente non vieni ascoltato, non vieni ascoltato, quindi tra l'altro Balzarini introduce l'argomento che forse non seguono Allegri, che forse non lo ascoltano ma rispetto a questo non è che si va a dire, quindi c'è un pericolo, c'è un problema perché se Allegri non lo ascoltano dopo cinque partite o dopo quattro evidentemente le cose potrebbero andare anche peggio nel corso della stagione, interveniamo prima che sia troppo tardi, no? E quindi dice, andato per tentative, perché quello che vorrei farmi notare è che nel momento in cui ho messo in luce questo aspetto non ho giustificato o difeso Allegri, penso di aver fatto il contrario quindi ho messo in luce anche un aspetto in cui lui evidentemente è mancato. Poi ecco vedi, dice, se la Juve dovesse battere lecce 2-0, 4-0, quello che sia, si tornerebbe a parlare a livello generale, cioè quindi lui generalizza, ma lui lo può fare, di una Juve che è cambiata, di una Juve che ha un'altra mentalità, perché ogni partita lascia lo strascico dei giudizi ed è la cosa più sbagliata che si possa fare, ma lo dico per la mia categoria, mentre continuo a non guardare l'obiettivo, a non guardare l'obiettivo ma a guardare la sua immagine riflessa nello schermo dello smartphone, vabbè questa è una cosa che fanno praticamente tutti e quindi dice, si passa di palo in frasca, da una settimana all'altra, poi fa l'esempio stava giocando la Roma contro il Torino, fa l'esempio di Murigno, fa l'esempio di Pioli, di Inzaidi, ci vale per tutti, per tutti quanti, il turnover, adesso anche per quanto riguarda García, tutta una serie di cose. Ecco, poi cita e quindi dice, c'è il risultatismo, ben svegliato Balzarini, ripeto, da uno dei fautori e dei sostenitori del risultatismo, ben svegliato, cioè lui uno dei fautori del risultatismo, io dell'antirisultatismo, e quindi dice, venendo alle cose nostre, mi si è fatto notare che anche l'anno scorso aveva perso 4-1 contro l'Empoli, ma chi ha scritto questa cosa e chi gli ha dato pure ragione, si ricorda in quale contesto era maturato quel 4-1 con l'Empoli l'anno scorso, mentre la Juve sta facendo il riscaldamento per la partita, gli comunicano i 10 punti di penalizzazione, quale squadra avrebbe fatto una prestazione diversa da quella che ha fatto l'anno scorso? Qualsiasi? Tantissime squadre avrebbero fatto qualcosa di diverso, perché Allegri per mesi ha detto che non dovevamo stare ad ascoltare il discorso della penalizzazione, che dovevamo distaccarci dalla penalizzazione, che non ci doveva interessare, che non ci doveva interessare e quindi se la squadra è sensibile a queste cose, evidentemente c'è un problema dell'allenatore che non riesce a comunicare la serenità a questa squadra, senza contare che quella partita non è stata solo persa, strapersa, ma è stata anche giocata malissimo e non era l'unica, e non era la prima, quindi cosa c'entra? A parte il fatto che prima di quella partita fu comunicata la restituzione di 5 punti, non la sottrazione di 10, perché 15 erano stati tolti a gennaio, poi furono restituiti con l'asterisco, cioè restituiti provvisoriamente, quindi era comunque meno 15, era comunque meno 15 salvo riforma, e la riforma è stata di restituirne 5, quindi dire che quella sera alla Juve furono tolti 10 punti significa non avere capito nulla, ma continuare a sostenere questo tipo di narrazione, e quindi dice, dai su ragazzi, detto questo, Allegri ha avuto le sue colpe, quali? Ieri sicuramente, quindi in realtà, sì, insomma, ieri questo video è di domenica sera, evidentemente le scelte iniziali non hanno pagato, in questo momento lo dico, parlo di Miretti, Fagioli, dice che Miretti non sta, evidentemente non sta migliorando, non me lo sono spiegato anche io certe cose, ma insomma piccole cose, no? Cioè sbaglia la scelta sulla formazione, il singolo giocatore non sta migliorando, ha avuto delle responsabilità, quali? Ma non si dice che la squadra non fa calcio, che la squadra è totalmente distante da qualsiasi altra squadra che giochi a calcio, anche molto meno attrezzata, non si parla del fatto che Allegri ha detto che la squadra non è abbastanza attrezzata, vogliamo tornare al discorso delle pistole e dei carri armati? Ecco, il Sassuolo cos'è? Un carri armato rispetto alla Juventus? Ma smettiamola di dire queste cose, e infatti non se ne parla proprio, cioè di questo discorso non viene più tirato in ballo, non va bene perdere la partita gli errori sono di tutti, al di là degli errori macroscopici, c'è sbagliare, credo che sia abbastanza umano, credo che nessuno sia perfetto, ma non è un difendere e cercare di comprendere, Allegri out, Allegri a casa, Allegri esonerato, bisogna cacciarlo, ma con quali soldi pagate un allenatore? Con quali soldi è pagato un allenatore? Da quest'estate che lo dico, bisogna esaminare quello che si ha senza arrivare a dire cose, per mio modestissimo parere, non sto giudicando nessuno, ognuno è libero di fare e dire quello che vuole, ci mancherebbe, io sono libero di dire quello che voglio, certo, ma basato sulla realtà, e se tu mi dici, dici ai tifosi con quali soldi lo cacciate, e quindi induci nei tifosi la consapevolezza, la sensazione che non sia possibile tecnicamente cacciare Allegri, stai dicendo il falso, stai dicendo una cosa che non è vera, perché se Pogba viene definitivamente cacciato, tu hai il risparmio sullo stipendio di Pogba, che copre esattamente lo stipendio lordo di Allegri, e ti puoi permettere di cacciarlo, perché lo stipendio di Pogba è fino al 2026, Allegri è fino al 2025, quindi di cosa stiamo, ce li hai i soldi, cacciato Pogba, puoi cacciare Allegri, hai il risparmio di cassa e il risparmio contabile per cacciare Allegri, si può fare, ma non lo dice Balzarini, con quali soldi? Con i soldi di Pogba lo cacci, con questi soldi, è un risparmio netto effettivo, ci vai a rimettere pochissimo, se poi non basta, evidentemente c'è qualcosa nel contratto che continuano a non dirci, che forse ci sono delle clausole, delle penali, e quindi se lo cacci gli devi dare più soldi di quelli che dovresti dargli se lo tieni, ma siamo ancora, dopo 5 partite, a fine settembre a dire che Allegri non lo puoi cacciare, non perché non sta facendo dei disastri, che comunque vengono negati, ma perché non ci sarebbero soldi per mandarlo via, si fa il discorso pragmatico, ma chi pensate di prendere in giro? E purtroppo qualcuno si fa prendere in giro da questa cosa, e dice, tranne Allegri non viene cacciato, la Juve non cambia l'allenatore a meno che non si trovi dodicesimo a Natale, anche se so che c'è gente che se lo augura, e sì, certo che ce lo auguriamo di stare dodicesimo a Natale, o anche peggio, ma questo non è risultatismo? Cacci l'allenatore perché a Natale è dodicesimo? E poi infatti dice, certo, tre anni, poi le perdite si sono ridotte, certo, tre anni senza trofei peserebbero un pochino, ecco, risultatismo, dodicesima a Natale lo cacci, si gioca male, pur essendo terzi, quarti, non si sa come, lo mandi avanti, risultatismo, e poi dice, non dobbiamo essere risultatisti noi della categoria, vi rendete conto? Una contraddizione nell'ambito di pochi minuti, un pochino di pazienza, di realismo, poi alla fine le somme vengono tirate, tre anni, che la Juve non vince, ecco, allora cominciano a pesare tanto, e ve lo garantisco, pesano tanto, tre anni, ma poi che cosa succederebbe? Ma perché tre anni devono pesare tanto? E uno no, e due no, non abbastanza, perché devi arrivare a tre anni senza vincere e svalutando tutti e peggiorando tutta quanta la situazione? Perché? Perdendo tifosi! Bazzarini, quali sono i dati degli abbonati? Lo sai? Lo sai quanti sono gli abbonati? No, ci siamo fermati a 16.000 conferme su 20.000 abbonati dell'anno scorso, 4.000 abbonati persi, quali sono gli abbonati nuovi? Dopo quelli che hanno confermato e non hanno confermato, quanti altri abbonati ha fatto l'Allegrentus? Oltre 16.000? Lo sai? Perché non lo dici? Sono stati anche persi dei tifosi, poi si parla di sold out, ma chi è questa gente che va allo stadio, che compra i pacchetti sconto comitiva per andare a vedere tre partite al prezzo di due o di due e mezzo? Parliamo anche di queste cose? No, bisogna aspettare il terzo anno senza trofei o di essere dodicesimi a Natale per cacciare questo allenatore. Benissimo, queste sono altre responsabilità di Bazzarini, se ne assume lui, perché lui che nella sua libertà dice queste cose, poi però che cosa comporta? Comporta che il popolo sta a sentire più lui che me ed altri, perché è oggettivo, basta vedere le visualizzazioni e leggere un po' i commenti in giro, e quindi il movimento popolare, Allegri Out, che doveva essere incessante, quotidiano, senza mai una sosta, mai domo, non prende vigore, non prende sostanze e sostanzialmente non esiste, tranne un'ondata di hashtag che è durata poche settimane, che è durata poche settimane, e torniamo ancora qui a doverci difendere dagli allegriani che ti dicono ma la Juve ha vinto, stai zitto, ti sono cavolate, e basta, si parla solo di questo, e quando gli allegriani in ondata dicono la Juve ha vinto, Bazzarini lo fa il video per dire no ragazzi, basta con questa storia, la Juve ha vinto, analizziamo la partita, non lo fa, si inalbera e fa il video incavolato solo quando gli fanno notare che ha scritto lui sulla copertina aveva ragione Allegri, ma se tu fai un video in cui dici aveva ragione Allegri e nel video ci metti una mezza critica, ma cosa ti aspetti? Giustamente ti vengono a dire ma cosa stai dicendo? Con una risposta nel merito che sto cercando di fornire, poi va bene, poi anche cita il Napoli, ma insomma sul fatto del Napoli, García, ne parlo a parte, quindi su questo lasciamo stare, quindi concludo questo commento di due video di Bazzarini che vi lascio in descrizione per farveli guardare, guardateli, guardateli, non esiste assolutamente di dire non guardate, anzi questo può essere un modo di dialogo anche per accrescere reciprocamente le visualizzazioni, lo dico in maniera beceramente utilitaristica anche se in realtà non è così, perché di certo chi ci va a guadagnare non sono io in questo senso, non perché Bazzarini faccia meno visualizzazioni di me, anzi ne fa di più il suo canale rispetto al mio, ma perché capite che rischio solo di prendermi ondate di odio, che non intendo naturalmente suscitare, intendo forse illudendomi suscitare invece un dibattito e un confronto. Vediamo se Bazzarini ha questa mia risposta lunga, perché sono due video che veramente era anche difficile trovare, infatti perciò ho dovuto tenere a video la trascrizione, trovare anche l'organizzazione per rispondere a tutto per quante erano le cose a cui rispondere, ecco magari troverà modo di controbattere e di replicare ulteriormente e così si cresce culturalmente e magari piano piano, video dopo video, qualcuno capisce che la deve smettere di dire cose campate in aria condizionando la tifoseria, come succede da anni, ad una consapevolezza basata su cose infondate, una consapevolezza dissociata dalla realtà e vediamo magari un miglioramento culturale nella tifoseria, chi lo sa speriamo. Grazie allora per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti anche a Gianni Bazzarini se vorrà intervenire, non credo che lo farà, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, compreso i nuovi episodi di questa rubrica che sarà estemporanea, Apsim guarda, se il video vi è piaciuto mettete like e condividetelo, abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per tanti vantaggi e seguitemi pure sul mio secondo canale Apsim Out, primo link in descrizione per video brevi sul calcio, primo link insomma link in descrizione perché ci sono anche i link ai video di Bazzarini in descrizione, comunque in descrizione trovate il link al mio secondo canale. Ci vediamo molto presto e senza compromessi, sempre Allegri Out! Grazie a tutti!